Si è conclusa la seconda edizione del Generazione Futuro Festival, un evento che viaggia al passo con le nuove generazioni, sostenuto dalla Fondazione Carifano e un'opportunità di confronto tra nuove voci, idee e prospettive che si esprimono su temi di rilevanza attuale come il digital e lo storytelling. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano crede e vuole investire sui giovani. Quest'anno Generazione Futuro è il secondo appuntamento, tutto dedicato ai giovani e quest'anno si parlerà di digitale e di storytelling. Digitale e storytelling che sono due dei temi più importanti della nostra attualità e i giovani avranno la possibilità di confrontarsi con ospiti a livello nazionale che parlano con questo linguaggio. Tre giorni per la seconda edizione di Generazione Futuro Festival, altri nomi importantissimi, Marco Maesano, Maurizio Merluzzo e domenica chiudiamo con Federico Buffa, quindi assolutamente da non perdere. Il modo di avvicinarsi ai giovani, Generazione Futuro, i personaggi che i giovani incontrano tutti i giorni nel cellulare a portata di mano, qui a Fano, che li incontrano, parlano con loro, i giovani si incontrano e questo diventa un bel modo di fare città. E poi anche un motivo per promuovere il territorio? Un bel modo di promuovere il territorio perché non solo i giovani fanesi ma coloro che stanno in altre città e coloro che stanno in altre regioni, conoscendo progetti di questo tipo, ci vengono a trovare, incontrano i giovani di Fano e da questo nasce turismo, nasce comunità, nasce economia. Quest'anno l'iniziativa si è svolta nella corte del Nespolo di Palazzo Bracci, Pagania, Fano e tre ospiti di rilievo sono stati i protagonisti di Talk, davvero interessanti. È fondamentale che ci siano iniziative di questo tipo perché è fondamentale che i ragazzi più giovani riescano a trovare degli spazi dove confrontarsi, dove magari ascoltare la testimonianza, in questo caso la mia, di chi non è proprio più giovane ma si ricorda bene ancora quando giovane lo era per davvero. Quindi bene e viva questo festival. Sono stati giorni importanti per la città di Fano anche grazie alla presenza della squadra del Calcio Mercato L'Originale, un programma targato Sky Sport condotto da Alessandro Bonan e seguitissimo per via delle numerose notizie di mercato diffuse nel corso della trasmissione dal noto giornalista Gianluca Di Marzio. Com'è stata l'accoglienza qui a Fano? È stata un'accoglienza molto affettuosa ma anche molto composta, molto sensibile. Non me l'aspettavo perché vedere così tanti ragazzi la sera a mezzanotte venire a seguire i collegamenti, volersi sentire partecipi di un programma in una città dove il calcio ha raggiunto al massimo livelli non da serie A e che tuttora si trova in serie D, però ecco vedere comunque la passione per il calcio mercato ci ha lasciato sicuramente una grande soddisfazione e anche un grande orgoglio. Quindi siamo molto felici di essere venuti e speriamo di tornare presto, speriamo soprattutto di aver accontentato tutti quelli che sono venuti anche soltanto per una foto, per un saluto, speriamo anche noi di aver ricambiato con la nostra gentilezza e con la nostra cortesia. Grazie.